Il tempo passerà e i risultati permettendo potrebbe curare la ferita profonda inferta al presidente Cosentino che pur aderizzando il tiro dopo la contestazione subita da parte della tifoseria ha annunciato la volontà di gettare la spugna. In un clima difficile per il Catanzaro continua così la marcia di avvicinamento alla partita che vedrà l'undici di Massimo Durso ospite del Foggia. Il tecnico prova a modificare qualcosa nel suo scacchiere, tutto questo mentre il direttore generale Carmine Donnarumma continua a battere il mercato alla ricerca dei rinforzi necessari. La priorità è un difensore centrale che sia affidabile tanto in termini di qualità quanto di esperienza. Difficile, se non proprio impossibile, che l'elemento atteso possa arrivare nelle prossime ore e, pertanto, possa essere disponibile per l'impegno in Puglia. Fallita la trattativa che conduceva a Marchetti, si fa inserita anche la strada che porta all'ex regino Burzigotti e all'ex Prato e Savoia Michele Rinaldi. Adesso si punta all'ex albinoleffe Davide Moi, con buone esperienze maturate indossando le casacche di Cremonese, Siracusa, Virtus, Lanciano e San Benedettese. E mentre nel gruppo si è aggregato anche Diamutene, è prioritario scremare la rosa che, nonostante l'abbondanza, ha poche alternative considerate davvero all'altezza.